Una produzione Telemantova, in collaborazione con Per il vostro benessere Buonasera a tutti voi cari telespettatori, ben ritrovati a Medicina in Linea, l'esperto risponde, l'appuntamento del mercoledì sera con il benessere e la salute qui a Telemantova, siamo in diretta dagli studi del Boma e c'è a disposizione un numero di telefono 0376 25 43 20 per chiamare e porre le vostre domande ai nostri esperti. Andiamo un po' di corsa perché sono tanti gli argomenti questa sera e sono numerosi gli ospiti anche che si daranno il cambio sulle nostre poltrone, nel nostro salotto. Allora andiamo subito a salutarli, la dottoressa Eleonora Tosi, farmacista, buonasera dottoressa. Questa sera la dottoressa Tosi ci parlerà della pillola anticoncezionale ma non solo, anche della scadenza dei farmaci, tutte informazioni molto importanti. Vicino a lei c'è il dottor Gilberto Saccani, farmacista, buonasera dottore. Ben ritrovato, analisi chimiche in farmacia molto importanti, capire come è questo procedimento sugli alimenti, sull'acqua, su tante cose perché la farmacia dei servizi è anche questo. Vicino a lui c'è il dottor Luigi Guerreschi, farmacista, buonasera dottore. Vedremo con lei come sta cambiando la farmacia, prenotazioni, CUP, screening, web care, tante cose importanti per gli utenti della farmacia che possono risparmiare tempo e si semplificano la vita rivolgendosi al farmacista. Con noi è anche il dottore Enrico Valeo Pandolfo, medico angiologo. Buonasera dottore, ben ritrovato. I problemi alle gambe, specialmente gambe appesantite e stanche che magari si fanno sentire, anche questa patologia si fa sentire in maniera molto presente in questo inizio di primavera perché da domani, anzi diciamo da oggi alle 11, per la precisione siamo in primavera, anche se guardando fuori non ci se ne accorge, però arriverà questo problema. Poi avremo nella seconda parte della nostra trasmissione il nostro dottor Paolo Cardaci, che non è sparito, non c'è lì dietro le quinte, pronto a parlarvi di un argomento molto importante, il carcinoma mammario e avremo ospite anche il dottor Vincenzo Rosa, medico di medicina integrata, che ci parlerà dell'ossigenozono terapia, proseguirà col suo intervento, l'abbiamo ospitato qualche settimana fa ma non l'avevamo concluso. Dicevamo che c'è il numero di telefono in esposizione per le telefonate, dottor Guerreschi, si parla sempre di farmacia dei servizi ma ne parliamo ben volentieri perché le cose stanno migliorando di giorno in giorno, quasi di ora in ora, a partire dal servizio di pronotazione che è forse la cosa più importante senza sminuire gli altri servizi, giusto? Sì, in base anche alle distanze delle farmacie rispetto ai cup, quindi una farmacia decentrata diventa improvvisamente un cup e quindi fa sì che la gente abbia un servizio direttamente vicino casa e c'è un grosso risparmio di chilometri, anche se pensiamo che per fare risonanze, tac, per avere queste prenotazioni poi occorre anche il modello di consenso informato da portare al medico e quindi c'è un risparmio enorme di chilometraggio e di tempo. Come funziona esattamente, dottore? Il paziente viene in farmacia e fa in farmacia quello che farebbe dopo aver fatto la coda all'ospedale? Sì, abbiamo questa tessera, la carta regionale dei servizi, che fa sì che una farmacia possa diventare un cup per tutta la regione Lombardia, questo è importante, quindi una persona per esempio va in un piccolo paese della Lombardia e in questa farmacia si possono fare, per le agende che sono nel regime, cioè che danno i propri nominativi, può fare prenotazioni, quindi in provincia di Cremona, di Mantua, di Brescia. Tra l'altro le cose stanno andando molto bene perché lei ha portato alcuni dati molto interessanti, no? Sì, c'è un aumento veramente forte nelle prenotazioni, soprattutto nelle città di provincia, perché a Milano per esempio rimane ancora fanalino di coda, ma a Milano è servita da moltissimi ospedali e strutture. Qui da noi c'è un aumento quasi del doppio in pochissimo tempo e quindi la prenotazione è uno dei servizi fiore all'occhiello della provincia di Mantua, dato che il presidente di Federfarma già nel 2000 ci credeva e aveva impostato questo servizio col coupon online. Credo che ci sia una telefonata, la regia me la segnala. Pronto? Buonasera, sono Marco da Suzzara e mi trovo a Parma per motivi di studio e vi guardo sempre via streaming. Innanzitutto voglio complimentarvi per la commissione. La mia domanda è la seguente. Sono andato due volte in farmacia a Suzzara, una per una visita dermatologica e me l'hanno prenotata online. L'altra è una radiografia alla mano e in farmacia mi hanno detto che non riuscivano a farlo online. Come mai? Ho capito, adesso lo chiediamo al dottor Guerreschi. Grazie, buonasera. Dottore, c'è una diversità? Sì, alcuni presidi danno tante agende, altri ne danno poche, altri non ne danno. Suzzara è uno dei presidi che non ha ancora dato tutte le agende, per cui alcune patologie si possono prenotare in farmacia, altre purtroppo non si può. Non ancora, però la cosa è l'itinere. Speriamo che la cosa possa migliorare e che quindi il cittadino normale possa andare in farmacia a fare questo, avere questo servizio completo per tutte le visite. Senta, il rapporto tra medici di base, farmacie, ospedali è sempre più stretto, ad esempio la campagna dello screening al colon o i servizi di web care funzionano, non solo sono importanti, ma funzionano molto bene. Molto bene, grande medicina preventiva col colon, con lo screening colon retto, prima provincia in regione Lombardia sicuramente, ma poi andiamo proprio, una delle prime prove che c'è stata in Italia direi sul, ecco qui, un grazie ancora al presidente Federfarma che ha voluto questo screening. Quindi, farmacia dei servizi si sposa con la medicina preventiva, si sposa con la capillarità e crea una struttura sostenibile. Sostenibile vuol dire che la gente finalmente comincia a perdere meno tempo in chilometraggi e in file. Certo, ma questo è fondamentale, dicevamo specialmente nei paesi della provincia, lontani dai presidi ospedalieri, ecco perché nelle nostre zone sta, diciamo, avendo più successo che nelle grandi città. Grazie dottor Guerreschi, tra l'altro lei, poi io la tirerò ancora in ballo perché si vede che il dottor Guerreschi è una persona che crede molto in questi servizi e fa parecchie iniziative, proprio anche, non solo nella sua farmacia, ma insomma, che riguardano tutto il settore, tra cui le schede anutraceutica, di cui ci parlerà poi anche la dottoressa Tosi. Dunque, tra i servizi della farmacia, come ci ricorda adesso il dottor Saccani, c'è anche la questione delle analisi chimiche certificate. Sembra un aspetto un po' lontano dai bisogni, diciamo, della gente. In realtà non è così perché c'è sempre più attenzione alla qualità dell'alimentazione e quindi cosa si può fare in farmacia? Sì, in farmacia c'è la possibilità appunto di accedere a questo importante servizio che è apprendito ormai da 2006 e praticamente la farmacia fa come un ponte tra i cittadini e il laboratorio. I laboratori in Italia sono mille, le farmacie sono 17 mila, quindi era giusto creare un sistema per il quale la distanza che c'è storicamente tra i laboratori e tra il cittadino privato venga un po' limata. E la farmacia in questo caso può essere molto importante perché viene appunto in soccorso a questa storica mancanza. Quali sono i servizi, dottore, che può fare la farmacia? Che cosa analizza? Bene, analizza tante matrici. Si può pensare all'analisi dell'acqua che è naturalmente quella che va per la maggiore, si può pensare anche all'analisi del vino, dell'ogno, degli alimenti, lo yogurt, il latte. Si può pensare anche all'analisi dei terreni, anche i terreni agricoli, per il contadino che magari vuole vendere meglio un appezzamento di terra e quello anche che lo compra. Addirittura, non pensavo che si potesse fare anche questo. Quindi basta recarsi in farmacia con il campione? C'è una gamma di tante analisi. Il farmacista in questo caso deve capire con alcune domande chiave quali sono le analisi che ha intenzione di fare il cliente. Naturalmente il cliente ha già un'idea, ma il farmacista può indirizzarlo nella maniera più corretta con certe domande. Per esempio, ti arriva una persona che ha un'acqua di fada di pozzo, ha un pozzo da analizzare, ma naturalmente... Quanto mai attuale. Esatto, bisogna capire se questa persona ha fatto un'analisi magari negli ultimi tempi o non la fa da anni o non l'ha mai fatta. Ora in questo caso lo indirizzi verso un'analisi più opportuna. È ovvio che se uno ha un pozzo, non ha mai fatto in vita sua un'analisi, almeno una volta nella vita bisogna capire almeno che è così. Senta, c'è una telefonata, la interrompo. Pronto? Sì, buonasera. 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 Ci dica. Dunque, io sono Luca Daviedana e volevo fare questa domanda. Mi hanno detto che l'addolcitore può essere un ricettacolo di batteri. E per questo sono un po' preoccupato per l'acqua che bevo. Che analisi dovrei fare? Certo. Sì, sì. Riguarda l'addolcitore dell'acqua del rubinetto, giusto? Sì. Bene, grazie. Grazie e buonasera. Allora, dottor Saccani, a proposito di acqua, probabilmente è più richiesta come analisi. Sì, è più richiesta. Si vedono in commercio tutti questi meccanismi, l'anticalcare, l'addolcitore, quelli che filtrano con i fiti a membrana. Esatto, esatto. Come stanno le cose? Sì, il ragazzo che chiamava appunto parlava di un addolcitore, che sono quei sistemi di depurazione dell'acqua che si basano su un utilizzo di resine e scambio ionico. Ed è vero, cioè tra un volta può capitare che l'addolcitore sia un ricettacolo di batteri, proprio perché nel tempo può diventare diciamo come una specie di serbatoio che oltre che filtrare, pulire e depurare l'acqua, può contenere poi delle impurità. A proposito di questo, un'analisi importante da fare è proprio un'analisi batterica dell'acqua, no? Nell'acqua che, diciamo così, viene fuori dall'addolcitore, cioè quella post, quindi a fare un pregnevo post-addolcitore dell'acqua di questo ragazzo della sua pellevazione, per vedere lo stato batterico. È ovvio che sempre parlando di addolcitore non è l'unica analisi che si può fare. Si può vedere, per esempio, se una persona ha dei dubbi sulla resa dell'addolcitore, vedere se funziona bene o meno bene, se è già il momento di magari interpellare un idraulico per capire meglio. Ecco, c'è anche il test addolcitore, che in realtà si fa il pregnevo prima e dopo, cioè due contenitori, acqua prelevata prima dell'addolcitore, acqua prelevata dopo l'addolcitore e si guarda il gradiente di concentrazione, soprattutto per quel che riguarda i parametri durezza e sodio, perché l'addolcitore abbatte la durezza ma nel tempo può causare un aumento di sodio. Senta, naturalmente specifichiamo ancora che questa analisi non le fa la farmacia, non le fa la farmacia, che si spieghi bene perché altrimenti si rischia di pensare che le farmacie siano così attrezzate da avere laboratori di analisi dietro al bancone. Si chiamano proprio analisi chimiche certificate perché appunto vengono certificate con tanto di certificato del laboratorio che mette il timbro, sono laboratori accreditati naturalmente e quindi il farmacista fa la funzione del tramite, raccoglie il campione, dà le modalità di campionatura giuste al cliente, è ovvio che se c'è l'acqua di pozzo da analizzare bisogna dare le modalità dell'acqua di pozzo, se c'è l'acqua di diacquidotto è il prodotto eccetera. Senza dottore, prima della pubblicità un minuto, tra le notizie che voi mi avete dato in queste belle schede che poi si trovano anche in farmacia come consigli utili, c'è anche la possibilità di analizzare il latte materno. Sì, anche il latte materno facendo una modalità di pregno specifica che può essere quella seriale, cioè all'inizio metà e alla fine della popata, si riguarda diciamo la concentrazione in macronutrienti, proteine, lattosio, grassi, per capire se, o meglio per dare un po' più di certezza alla mamma che è nata, che diciamo così si tranquillizza sulle proprietà nutritizie del proprio latte. Bene, allora c'è un po' di pubblicità e poi proseguiamo con queste nozioni così interessanti sulla farmacia, proseguiremo parlando di scadenza dei farmaci, anche qui molto importante, alcune notizie sulla pillola anticoncezionale e poi il dottor Ovaleo interverrà sulle gambe stanche e pesanti, ma ci sarà anche la ricetta della salute, non l'ho detto all'inizio ma l'appuntamento è fisso, tra poco. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Queste nozioni le troviamo nella cosiddetta scheda del mese che è un nuovo servizio che possiamo trovare al più presto anche nelle farmacie di Mantua, per adesso il sistema è partito in Toscana e in Liguria, comunque ogni mese c'è appunto un'informazione riguardante o i farmaci o... L'abbiamo ricordato nelle scorse puntate, comunque è meglio ribadirlo. Per quanto riguarda la scheda del mese di marzo parla appunto della pillola anticoncezionale, dato che anche in farmacia comunque chiamano spesso chiedendo ma l'ho dimenticata, ma ho avuto il vomito eccetera eccetera, e in questa scheda appunto ribadisce il fatto di come va assunta, cioè che va iniziata il primo giorno del ciclo, va assunta preferibilmente tutti i giorni alla stessa ora e al massimo più uno o meno uno ora, comunque sono sempre meglio... Bisogna essere precisi. C'è credo una telefonata, pronto? Buonasera, sono Giovanna e chiamo da Bozzolo. Buonasera. Io ho preso il virus gastrointestinale proprio in questi giorni e ho vomitato tre ore dopo aver assunto la pillola anticoncezionale e volevo sapere se in questi casi è giusto assumerne un'altra. Grazie, grazie, buonasera. Dottoressa, lei? Ecco, sì, questa è una delle cose appunto che troviamo scritte in queste schede, se il vomito avviene entro le 5 ore, sì, bisogna assumerne un'altra perché comunque in 5 ore viene eliminata, se invece il vomito capita dopo le 5 ore, no perché comunque insomma l'assorbimento... Era già avvenuto. Esatto. Per quanto riguarda invece in caso di diarrea, sempre come vediamo scritto nella scheda, e l'assorbimento è in pericolo fino alle 10 ore dall'assunzione, mentre insomma nel dubbio poi è sempre meglio assumere una pillola in più rispetto... Certo, beh, altrimenti sì, poi ci sono sorprese indesiderate. Senta, adesso noi qui abbiamo detto i parametri per l'assunzione corretta, alcune volte però, non nel caso della pillola, la scatola del farmaco, il farmaco si lascia nella credenza, nell'armadietto, no? O il bagno. In bagno, forse nulla è più sbagliato che tenere i farmaci in bagno, per l'umidità eccetera, e per l'alta temperatura, solito in bagno si ha una temperatura un po' più alta rispetto alle altre stanze della casa, e perché passato lo santo, gabbato lo santo si dice, no? Cioè nel senso passata l'influenza, il paracetamolo piuttosto che lo sciroppo per la tosse, cioè si lascia lì in attesa dell'anno prossimo quando tornerà la tosse. E invece? No, soprattutto per scadenza del farmaco, ma anche del fitoterapico, dell'omeopatico, si intende la validità del prodotto, ossia il lasso di tempo entro il quale può essere consumato se conservato ovviamente in una confezione integra. Il problema tra i diversi tipi di farmaci nasce dopo l'apertura, nel senso che ci sono alcuni farmaci che dopo l'apertura mantengono la data di scadenza originaria, e questi sono i farmaci monodose, per monodose intendo i coliri monodose, le diverse fialettina, i farmaci in bustina, ma anche semplicemente le compresso, le capsule che si trovano in blister, quindi in confezioni integre l'una rispetto all'altra. Quello però magari ci può aiutare, sono monodose. Monodose, esatto. Cose invece si fanno forse più preoccupanti quando si tratta di dei farmaci multidose. Uno sciroppo lasciato aperto, tipo. Esatto, soprattutto, vabbè, in linea generale, quelli a cui bisogna fare più attenzione sono i colliri multidose che dopo 20-30 giorni bisognerebbe comunque proprio gettarlo. Gli antibiotici liofilizzati, quelli che bisogna portare a volume con dell'acqua, quelli una volta aperti vanno conservati in frigorifero e nel giro di 20-30 giorni vanno consumati. Senta, ma c'è qualcosa che ci può aiutare? Beh, il foglietto illustrativo, ma poi anche, nel senso, la scadenza si intende a prodotto conservato nel migliore dei modi, no? Esatto, però magari uno pensa che anche lo sciroppo senza conservanti, lo sciroppo appunto contenente dell'acqua portato a volume, una volta aperto ci si possa riferire alla data di scadenza della confezione. E invece no. E invece no, bisogna sempre leggere attentamente il foglietto illustrativo, che spesso e volte comunque non si fa, o comunque a volte non c'è neppure scritto. Troppo complicato, dottoressa, c'è scritto di tutto. Senta una cosa, ma se il principio attivo viene meno, io mi sono sempre chiesto questo, al massimo un farmaco non farà effetto o diventa dannoso? Eh, ci sono dei casi dove la degenerazione chimica, la decomposizione comunque delle molecole all'interno del farmaco, possono causare anche la formazione di sostanze tossiche, dipende sempre dal farmaco. Quindi è sempre consigliabile non utilizzarlo oltre la data di scadenza. Bene, allora questo c'è nelle schede mensili, non solo, ma insomma che si trovano in farmacia, e sono molto utili anche, vedete, questa cosa dei farmaci, uno si può prendere la scheda, appenderla sul frigorifero, dico io ogni tanto buttare un occhio per vedere come stanno le cose. E non tenerli in bagno. Esatto, non tenere in bagno i farmaci, ecco, mi raccomando. Allora, grazie dottoressa, dottor Ovaleo Pandolfo, con lei adesso parliamo di gambe stanche e pesanti, che è sempre una delle schede della nutraceutica che lei ha firmato, quindi lei conosce a memoria, rischio di fare il mic buongiorno, adesso fare le domande su quante schede, cosa ne è di argomento, parte quello, diciamo così come battuta. Abbiamo detto che si avvicina a grandi passi la bella stagione a livello di calendario, o poi a livello di meteo non ce ne accorgiamo, però arriverà, prima o poi, tutto ad un botto, perché non c'è gradualità, ormai non c'è gradualità e quindi tra 15 giorni sentiremo il caldo, piuttosto che tra 20 giorni. Succede questo fenomeno anche, no? Che ci si sente stanchi, con l'età che cosa succede? Lei che è angiologo. Esattamente, bisogna fare una piccolissima differenza tra la gamba stanca e la gamba pesante. E in modo empirico si può suddividere a seconda di due patologie che ne sono alla base. La gamba stanca, specie già la mattina, in assenza di aver fatto qualunque sforzo muscolare e all'inizio della giornata, fa più pensare a qualcosa di neurologico, cioè qualcosa di legato a un'irritazione dei nervi che vanno alle gambe e quasi sempre a causa di problemi lombari. La nostra schiena, la nostra colonna vertebrale dopo i 50 anni è fuori garanzia perché non è più quella del quadrupede verso cui ci eravamo formati e quindi ha spostato tutti i pesi e di conseguenza ha un nuovo assetto. La gamba pesante invece è tipicamente più nella seconda parte del giorno, più tipicamente serale, nella donna della seconda parte del ciclo e parlando di realtà stagionali, cosa che quest'anno non si è ancora verificato, non c'è stato il giorno con l'esplosione di 10-12 gradi in più, per cui improvvisamente il nostro termostato che è raffinatissimo ma che ha bisogno di un po' di allenamento si trova spiazzato. Certamente, la interrompo perché c'è una telefonata, dottore. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Ci dica. Sono Maria Di Dosolo. Ci dica. Quali sono gli stili di vita adatti per prevenire la frebopatia? Adesso lo chiediamo al nostro esperto. Grazie, grazie signora. Grazie a lei. Grazie a lei. Ho capito i presidi adatti. Presidi adatti ce ne sono tanti, dall'atto chirurgico che comunque va sempre più ridimensionato perché l'atto chirurgico risolve bene e a breve. Bisogna prevenire. Però bisogna soprattutto considerare che è una malattia cronica perché anche avendo le varici, una volta tolte le varici, volendo avere un attesimento più aggressivo, resta il varicismo, resta cioè la predisposizione. Quindi bisogna integrare con scleroterapia e l'astocompressione tutta una serie di farmaci, di situazioni da attuare anche in modo imbricato, ingranando una con l'altra in modo che ognuna di queste tecniche porti il proprio risultato. Le calzi con l'anticontenitivi che si sentono spesso? La calza è uno dei sistemi, diciamo, il meno eroico, quello dell'elastocompressione, ma è anche uno di quelli più efficaci. Ha dei limiti per quanto riguarda la questione estetica o l'aspetto funzionale. Ma molte volte, anche dopo interventi chirurgici e non solo nel post-operatorio, da quel momento bisogna comunque adottare un'elastocompressione proprio per fare una vera profilassi per arrivare a contenere le cause del fenomeno varicoso e dell'astasi. Dicevo comunque... Senta dottore, le volevo chiedere, quando si ha questa sensazione di gamba pesante, di palla al piede praticamente, si tende spesso a rimanere in casa, ad alzare la gamba, a metterla sulla sedia. Invece bisognerebbe fare un po' di esercizio fisico, moderato, con gradualità, no? Perché si rischia spesso di dire meglio rimanere fermi. Ecco, è esattamente il contrario. Così come una volta portiamo alle estreme conseguenze il fenomeno di stasi, che è l'ulcera da stasi, una volta si teneva semplicemente a letto il paziente facendo in modo che la pressione venosa fosse più bassa tenendo il paziente orizzontale, e quindi non c'era questa grossa pressione esostatica. Si è visto invece che un atteggiamento dinamico, cioè nel far funzionare la pompa muscolare, il polpaccio, nello schiacciare il piede nella camminata, ecco che è molto più efficace perché corregge meglio il difetto che è alla base di questa patologia. Ho accennato all'ulcera da stasi, che è la cosa peggiore, ma già semplicemente la gamba pesante, dovuta al fatto che c'è una ritenzione idrica, è la famosa vasca da bagno in cui l'acqua che entra è superiore a quella che riesce a uscire, prima o poi deborda. In una gamba il debordare che cos'è? L'andare a infarcire di liquido che fuoriesce dai capillari il tessuto adiposo. E quindi questo dà questo senso di tensione. Bisogna muoversi. E quindi il movimento va benissimo. Movimento e l'alimentazione. L'alimentazione ridurre la portata del sodio, che è fortemente idrofilo. Importantissimo questo del sale. E lì ci sono poi il sovrappeso, ovviamente. E poi soprattutto l'altro errore, che è frequentissimo, perché la nostra struttura agli alti inferiori è quella antichissima dell'uomo preistorico, che però le gambe le usava, e noi non le usiamo. In natura non si può fare la camminata di 20 chilometri la domenica e nulla tutti i giorni. Bisogna diluire questo esercizio. Assolutamente sì. Si respirano 16 atti respiratori al minuto, si battono dai 70 ai 90 battiti cardiaci, e va fatto con continuità. Non si può fare assalti. Bene, grazie dottor Ovaleo. Adesso dobbiamo entrare in cucina. Andiamo a vedere, immagino che tutti siamo appassionati di questa parte della trasmissione. Dottor Cardazzi stasera si perde lì dietro le quinte. Il raviolo ripieno di cacciotta su guazzetto di vongole. Cosa stupenda. Vediamo con il nostro Gerry e poi torniamo in diretta. Buonasera, ben arrivati all'Acqua Pazza. Questa sera andiamo a presentare una nostra ricetta, che sono i ravioli di pasta cotta con ricotta primosale maggiorana. Gli ingredienti sono i ravioli che abbiamo preparato, per qualche giorno dedicheremo una puntata alla pasta ripiena, i pomodorini, il guazzetto di frutti di mare, che sono le vongole, con la loro acqua. Dobbiamo preparare la nostra ricetta con l'aiuto di Matteo. Facciamo soffriggere l'aglio intero, solo per dargli il profumo. Poi butteremo i pomodorini, in modo che da appassire, regoliamo di sale. Andiamo a mettere il liquido delle vongole. A noi serve solo dare sapore, per cui le vongole già sono cotte precedentemente, per cui ci interessa creare solamente la cremina insieme al pomodoro, dove andremo a saltare il raviolo. Aggiungiamo le vongole e andiamo a buttare giù i nostri ravioli. Questa tipologia di pasta è una cottura molto breve, quindi 3-4 minuti è già pronta, per cui è un piatto molto fresco, rapido ed è un abbinamento molto gustoso. Il formaggio che va a sposarsi con la vongola. Andiamo a sgocciolare i nostri ravioli. I nostri ravioli sono pronti, facciamo insaporire il tutto nell'insieme e andiamo a servire la nostra pietanza. Eccoci qua, andiamo ad impiattare il raviolo. Ecco qua. Il raviolo. ultimiamo con un filo di olio. Extravergine. Buon appetito! Eccoci tornati in diretta con Medicina in linea, proseguiamo parlando adesso con il dottor Paolo Cardaci che salutiamo, buonasera, benvenuto. E eravamo già preoccupati, c'era la ricetta della salute e lei non era l'appello, però non è che dietro ha fatto degli assaggini, no, non si sa. E salutiamo il dottor Vincenzo Rosa, buonasera, ben ritrovato anche lei. Tra un po' parleremo anche con lei. Dottor Cardaci, allora, il carcinoma mammario, un problema che aumenta sempre più e è fondamentale la prevenzione, ma andiamo per ordine. Intanto diamo una definizione mentre poi la regia ci mette in onda la prima slide. Per carcinoma mammario intendiamo una condizione patologica e praticamente un tumore maligno che colpisce la ghiandola mammaria. La ghiandola mammaria in una certa fase dell'età della donna, insomma. Eccola, ce la descrive. Esatto, beh qui abbiamo un'anatomia, vediamo appunto la cute, il muscolo profondamente, il grande pettorale, il piccolo pettorale che sono esattamente muscoli che rivestono la parete toracica. Ecco, davanti di questi muscoli in parte compresa tra la cute e tali muscoli abbiamo la ghiandola mammaria. Abbiamo una componente adiposa anche attorno che completa appunto il tale organo. Importante dire che non solo colpisce il sesso femminile ma anche se pur raramente il sesso maschile ne viene colpito. Diciamo che circa l'1% quindi molto pochi però non escludiamolo. L'1% dei tumori maligni maschili sono costituiti da tumore mammario. Esiste, non ignoriamo che esiste anche nell'uomo. Dunque è un tumore che ha uno sviluppo classico questo come succede spesso nei tumori? Sì, diciamo che è un tumore che è facilmente così identificabile mediante degli screening appunto mammografici ecografici e con una buona attenzione da parte della donna se la donna impara a conoscere il proprio corpo se impara ad eseguire correttamente un'autopalpazione terminato il periodo dei classici cinque giorni delle mestruazioni momento in cui la ghiandola diposa e la ghiandola mammaria sono meno dense quindi più facilmente si lasciano così sfiorare dalle dita della paziente la paziente impara un po' a conoscere il suo corpo e quindi ad identificare se da un ciclo mestruale all'altro compare qualche mondo e cose sono cambiate c'è una telefonata pronto? è pronto buonasera buonasera io chiamo dalla provincia di Mantova chi dica? ho una domanda per il dottore io ho smesso di allattare dopo 25 mesi e mi chiedevo dopo quanto tempo posso fare una mammografia e consideri che io compirò 40 anni tra 3 mesi e che non ho mai ho fatto mammografia in precedenza e mi è venuto il dubbio perché la mia ginecologa caldeggia un controllo a breve già dopo 2 mesi però ho letto che invece bisogna poter attendere un anno siccome la farei privatamente e costa volevo sapere se dopo 2 mesi dalla fine dell'allattamento ha senso farla oppure se insomma è meglio aspettare va bene sentiamo dottor Paolo Cardaci grazie buonasera buonasera a lei dottor Cardaci la cosa importante sarebbe capire la condizione diciamo della ghiandola mammaria prima della gravidanza cioè se c'erano presenti non so delle fibrocisti se c'era una componente magari solamente cistica e questo sarebbe importante perché allora ci affretterebbe nei tempi e ci direbbe che dovremmo fare effettivamente un po' precocemente questa questa mammografia se tutto questo invece non ci fosse cioè ci fosse una condizione di normalità potrebbe ancora attendere alcuni mesi la paziente in modo tale che la ghiandola mammaria post all'allattamento ha bisogno di un certo periodo per così riequilibrarsi adattarsi e quindi potrebbe attendere tranquillamente ancora 4-5 mesi insomma una via di mezzo tra le due cose sì una via di mezzo e suggerire anche magari di associare alla mammografia anche un'ecografia mammaria senta ci sono dei fattori ambientali ed ereditari che portano a questa neoplasia che abbiamo riassunto in una scheda che possiamo vedere assieme sì esistono dei fattori importanti anche perché così la comparsa di un tumore come tutti i tumori non solo quello mammario sono determinati da lesioni del DNA e quindi dai filamenti genici che ci sono all'interno delle cellule da un fallimento dell'immunosorveglianza e da difetti anche genetici che non permettono la riparazione di un DNA che si è guastato tra diciamo i fattori importanti esistono una familiarità per tale tipo di tumore specialmente ovviamente in linea femminile visto che colpisce prevalentemente la donna il sesso femminile nei parenti di primo grado e quindi nelle sorelle mamme zie e nonne delle pazienti stesse ovviamente un moderato consumo di alcolici la mancata lattazione è un fattore che purtroppo può predisporre a questo tipo di tumore un'età superiore ai 50 anni perché la frequenza avviene dopo i 50 anni anche se il nostro professore Veronesi caldeggia molto dopo i 40 anni una prevenzione mentre gli americani dicono di partire già dai 50 anni noi siamo più prudenti diciamo che anche 40 anni come la telespettratrice che ci ha riferito poco fa va fatta dopo i 40 anni questa prevenzione uno stato sociale economico elevato è uno dei fattori di rischio uno in menarca prima dei 12 anni presenza nel nord America nel nord Europa quindi in posizioni geografiche di paesi molto industrializzati la nulliparità cioè pazienti che non hanno mai avuto una gravidanza oppure hanno avuto una gravidanza la prima gravidanza avanzata le terapie ormonali sostitutive cioè dopo la scomparsa delle mestruzioni in periodo appunto meno pausale che durano più di 5 anni gli americani ci dicono sempre che anche forse 10 anni di trattamento così sostitutivo non dovrebbero allarmare più di tanto se poi la paziente si fa sorvegliare e controllare dal ginecologo di fiducia e i contraccettivi ecco orali sembra che siano meno influenti nonostante contengano degli ormoni però sembrano meno influenti nel predisporre quindi e poi c'è tutto l'elenco di cose che fa male a prescindere che abbiamo sempre detto senta è fondamentale fare una indagine approfondita come ad esempio la mammografia di cui ci parlava anche la signora che ci ha telefonato che possiamo vedere anche in queste immagini di che cosa si tratta quali sono i criteri sì è un'indagine radiologica che permette di vedere anche la comparsa di noduli veramente molto molto esili di pochi millimetri il radiologo è molto allenato in questo ci sono dei radiologi che si occupano prevalentemente di questo tipo di metodica vediamo appunto nella parte destra un tumore quella parte un po' circolare bianca nella parte destra appunto dell'immagine è un tumore maligno mammario è importante farla non aver paura di farla ovviamente ogni anno si andrebbe fatta praticamente tutti gli anni a partire dai 40 anni in poi magari prudenzialmente per i primi anni si può alternare un anno una mammografia e poi un'ecografia però man mano che si procede nell'età della paziente verso i 50 anni sicuramente tutti gli anni andrebbe ripetuta ma non solo perché ci può essere anche una stadiazione e qui servono altri esami esatto per le stadiazioni nel caso venisse purtroppo riscontrato un tumore quindi un nodulo il nodulo va prima controllato anche ecograficamente viene molto spesso ago aspirato quindi con un ago sottile viene fatto un piccolo prelievo citologico per vedere se c'è qualche cellula maligna nel caso appunto di conferma di carcinoma quindi di cellule maligne si può fare una piccola biopsia e individuare ancora con più certezza il tipo di tumore se ha dei recettori per gli estrogeni o non li ha e quindi questo può servire per la terapia medica eventuale e poi sicuramente l'atto chirurgico è quello veramente importante cosa deve fare allarmare la paziente la comparsa di un nodulo che non è dolente quindi tranquillizziamo le pazienti che purtroppo non è dolente il nodulo mammario maligno e anche quelli benigni non lo sono però una retrazione del capezzolo la comparsa della classica pelle a buccia d'arancia in una zona dove la paziente palpa questo nodulo sono tutti segni d'allarme che devono portare immediatamente la paziente dal medico per poi completare le indagini come avevamo visto quindi le secrezioni del capezzolo specialmente se sono ematiche quando si parla di linfonodo sentinella invece è una metodica importante che utilizzano i chirurghi prima di fare un intervento e di pensare ad una asportazione dei linfonodi che sono veramente importanti vanno lasciati se sono indenni il chirurgo inietta il giorno prima dell'intervento una sostanza colorata inerte per il nostro corpo quindi non tossica sicuramente che viene pian piano assorbita dal sottocute dalla zona interessata dal nodulo e pian piano viene drenata e aspirata verso dei linfonodi quindi il chirurgo sa già il percorso che potrebbe fare una cellula maligna e quindi andrà nell'atto operatorio a indagare questi linfonodi se l'infonodo sentinella è negativo tutta la catena dei linfonodi viene lasciata stare altrimenti viene asportata nell'atto chirurgico allora l'atto chirurgico è l'unica soluzione poi a questo si aggiungeranno radioterapia o chemoterapia che cosa fare sicuramente l'atto chirurgico è molto importante anche se abbiamo visto che negli ultimi decenni si tende sempre più a fare una chirurgia di tipo conservativo cioè a togliere lo stretto necessario e non di più negli anni appunto dei pionieri di tale tipo di intervento addirittura si toglieva gli andrini mammari si toglievano addirittura le coste si toglievano tutti i muscoli cioè si faceva uno svuotamento pressoché totale di quella zona toracica oggi si cerca di togliere possibilmente il tumore se non è andato in metastasi ovviamente si cerca di essere sempre più conservativi anche importante anche poi riuscire a inserire magari una protesi già nel lato operatorio nel caso sia possibile quindi nei pazienti più giovani e quindi anche il lato estetico viene salvaguardato immediatamente subito dopo l'intervento poi la radioterapia o la chemoterapia le dicevo perché si radioterapia a seconda appunto della famiglia del carcinoma che tipo di carcinoma sia ai recettori o non ai recettori importantissima la radioterapia perché può diciamo sterilizzare tutta l'area topografica dove è avvenuta l'asportazione di questo nodulo maligno e quindi ci dà una maggiore certezza che se per disgrazia qualche cellula fosse scappata e fosse magari non ben identificata avrebbe colpita dalla terapia radiante poi c'è la chemioterapia che viene fatta anche con delle sostanze particolari abbiamo anche a volte dei farmaci semplici che noi medici di medicina generale poi prescriviamo sul consiglio dell'oncologo perché pensiamo che la competenza è non solo del chirurgo ma anche dell'oncologo quindi c'è un team di specialisti che valutano sì, certamente cioè radiologo oncologo terapista bisogna trovare il cocktail di farmaci adatto per la chemioterapia al tipo di tumore e sempre se c'è il recettore per gli estrogeni uno check bene grazie dottor Cardaci grazie a voi cari telespettori per aver seguito questa parte della nostra trasmissione adesso c'è un po' di pubblicità e poi l'ultima parte parleremo di ossigeno o zonoterapia se siete doloranti da qualche parte del corpo il nostro dottor Rosa adesso vi dà la bacchetta magica no, non proprio ma insomma un buon indirizzo a tra poco eccoci tornati in diretta con Medicina in Linea 0376 25 43 20 per le vostre telefonate adesso parliamo di ossigeno o zonoterapia dottor Rosa è il nostro medico di medicina integrata abbiamo già parlato di questa terapia nelle scorse puntate ma il tempo è volato e quindi non eravamo riusciti a completare ad esaurire tutto l'argomento ricordiamo brevemente di che cosa si tratta dottore così poi andiamo a vedere i filmati che abbiamo preparati per le cure delle altre patologie che non avevamo affrontato nella puntata precedente l'ossigeno o zonoterapia è una terapia medica complementare che non va a sostituirsi alle altre terapie ma va ad agire probabilmente dove le altre non sono riuscite ad avere un'efficacia terapeutica cioè come aspettativa da parte dell'utente è una terapia innocua va attuata da un ambiente protetto quindi un ambulatorio attrezzato va fatta con un gas che viene preparato all'istante e viene somministrata in varie vie del nostro corpo può essere la via intramuscolare quella paravertebrale che abbiamo visto una volta precedente può essere una via di somministrazione intraarticolare per cui va a esplicare i benefici all'interno dell'articolazione che è una cavità virtualmente vuota può essere somministrata anche per via rettale per cui ci sarà un assorbimento piano piano anche nel circolo enteroepatico quindi va a simulare un'azione parenterale può essere fatta come autoemoterapia quindi prelevare una parte di sangue ossigenato cioè quindi lavorato con l'ozono mescolato e poi reinfuso direttamente senza allontanare la sacca dal paziente stesso può essere utilizzato a livello sottocutaneo per tante altre patologie per cui può avere dei riflessi antalgici anche a livello sottocutaneo per esempio un epicondilite piuttosto che altre patologie che sono molto superficiali rispetto a quella intraarticolare e può essere utilizzato anche a livello orl come vedremo dopo ecco il senso è quello di mettere un rimedio laddove appunto il medicinale non è riuscito a svolgere la propria azione e laddove esista un dolore persistente allora ora facciamo vedere una serie di filmati che sono molto brevi quindi poi la regia ce li ricarica ce li ripropone quello che adesso vediamo è la sindrome del tunnel carpale in questo video qui come si può agire? e qui praticamente viene somministrato il gas con pochi cc intorno al canale del tunnel carpale dove c'è l'introppolamento vascolare e nervoso e quindi che porta una sintomatologia molto evidente dolorosa alle tre dita centrali della mano e con irradiazione ma si interviene dove è già stata fatta un'operazione oppure prima di farla? allora di solito si interviene prima di farla per cui si riesce a far regredire lo stato infiammatorio e a questo punto diciamo il beneficio è quello di non avere bisogno di non andare a fare intervento spesso e volentieri questi interventi possono rimuovere l'ostacolo momentaneamente ma poi le condizioni anche lavorative possono creare ancora il danno a livello del tunnel della galleria dove passano quindi si può continuare con questa terapia o lei dice che c'è bisogno di fare un intervento? allora se il beneficio è risolutivo e immediato diciamo prima dell'intervento la persona sicuramente con piacere rimanda all'intervento ma nei casi di interventi che poi c'è sempre nella chirurgia come il mio collega qua vicino insegna specialmente con l'ortopedica c'è una sindrome da fallimento spesso e volentieri come per l'ernia al disco e allora a questo punto non si sa più come reintervenire e quando non ci sono più speranze per intervenire perché logicamente il distretto è piccolo andare a toccare qualcosa e questa è imbarazzante che se cambiamo il chirurgo è difficile poi avere risultati attesi e la terapia antiinfiammatoria può portare dei benefici allora metatarsalgia vediamo la metatarsalgia è dovuta sempre a una sintomatologia analoga ma è dovuta appunto al dolore a livello del metatarso che sono le ossa che precedono le dita dei piedi dove c'è l'articolazione metatarso-farangea vediamo se riusciamo a vederla la persona che cammina magari con tacchi alti va a comprimere la zona eccola qua che noi vediamo dove c'è la iniezione devo dire che è la zona dolente quindi iniettare del gas in questa zona si va a cercare di dare un'azione antiinfiammatoria proprio nella parte della componente legamentosa e muscolare di quel distretto e che si viene un po' alleviato allora c'è una telefonata pronto? pronto? sì buonasera buonasera io sono Elisabetta Damantova ci dica niente io sono stata operata nel carpale 15 giorni fa sì perché oramai non avevo più la sensibilità alle tre dita che ha appena parlato il dottor sì niente io praticamente non sento ancora niente è normale o avrei bisogno di una terapia come sta dicendo come questa adesso glielo chiediamo subito grazie e buonasera grazie a lei grazie a lei l'operazione chiediamo aiuto anche al dottor Cardaci se necessario nel senso che facciamo una consulenza medica o di equip diciamo in questa prima fase possiamo aspettarci ancora delle fasi di adattamento quindi io recupero fisiologico e quindi non c'è è ancora troppo presto quei 15 giorni diciamo sull'esito dell'intervento però se passa un mese mese e mezzo e si capisce che la situazione persiste vuol dire che diciamo l'intervento è stato efficace parzialmente e a questo punto rimane sempre il problema chi va a mettere mano successivamente un'azione locale con terapia fisica come ultrasuoni ianoforesi laser hanno un beneficio parziale questo invece va a riossigenare quelle parti che sono ancora in conflitto allora signora aspetti un mesetto mesetto e mezzo poi torni dal suo medico ed eventualmente si avvicini anche a questa terapia che le può far d'aiuto senza tornare ad intervenire chirurgicamente laddove magari le cose non sono riuscite al 100% patologia della spalla dottore anche qui si può intervenire la patologia della spalla è una patologia molto importante nell'attuale società perché è molto invalidante ed è dovuta la lesione specialmente della cuffia di rotatori che è un insieme di muscoli all'interno che tiene unito l'omero la testa omerale all'interno della spalla però logicamente per esempio nella zona che vedete appena infiltrata c'è anche la possibilità di curarla tendinosi del capolungo del bicipite che è una patologia degenerativa del muscolo bicipite che è quello che ci fa contrare l'avambraccio sul braccio e a questo punto l'azione locale della zona terapia sulla parte superficiale va a dare ossigenazione a tutto il compartimento articolare della spalla quando la persona ha dolore intanto possiamo fare questo ma anche quando la persona è candidata ad un intervento molto importante sia in artroscopia che può essere preparatorio è preparatorio perché i lembi muscolari sono deteriorati come per esempio una stoffa e se io voglio ramendare una stoffa logicamente non riusciamo a far collabire anche con una buona struttura perché non rimescono e anche in fase preparatoria sia la fisioterapia che l'ossigeno zonoterapia danno la possibilità di avere un miglior successo terapeutico all'operazione chirurgico senta, sin qui le patologie più comuni abbiamo visto la schiena l'altra volta queste le abbiamo viste così però ci sono delle patologie ottorino-laringoiatriche e qui è molto curioso ecco invece si può intervenire anche su questo su riniti e sinusiti addirittura c'è la metodica particolare che sto applicando da un po' di tempo vediamola mentre ce la descrive è quella diciamo di poter curare le riniti e le sinusiti quindi come si attua questa metodica si va a dare questo farmaco che è un farmaco antinfiammatorio a livello diciamo ORL quindi la persona è costretta a respirare aria per un attimo quindi ha una scorta di ossigeno per 30, 40, 50 secondi e quindi si crea una cavità virtuale vuota nella parte diciamo del naso naso-gola e quindi lei interviene in questo modo? a questo punto si insuffla dentro aria come vedete in questo momento l'aria rimane intrappolata dentro in un circuito chiuso per 30, 40, 50 secondi si ripete tre volte per narice e a questo punto va a dare un apporto di terapia antisettica antibatterica antivirale e antidemigena quindi anche nell'ipertrofia di turbinati nel caso di rinopatie croniche ma sa quante persone poi soffrono anche di mal di testa eccetera perché c'è la sinusite e non si riesce a debellare ecco perché prima che conicizi o prima che diciamo dia degli esiti praticamente di competenza esclusivamente chirurgica si può agire in questo modo specialmente diciamo dopo che una persona ha già avuto diversi attacchi cefalalgici da sinusite questa agisce perché va a disostruire gli osti dei seni etmoidali dei seni macellari e dei seni ma si può intervenire anche prima io dico io ne so qualcosa la persona prova con dei rimedi tradizionali dell'antibiotico però non sapendolo adesso invece senta anche l'ottite si può curare o comunque si può intervenire anche in caso di otite come vediamo l'ottite prevalentemente sono una patologia frequente in età pediatrica e a questo punto vedrete una situazione proprio della fascia di riferimento praticamente i bambini nell'età pediatrica vanno incontro per dire per i tre quarti tutti hanno avuto almeno un'ottite nel corso della loro infanzia e a questo punto però il problema è quando le otite sono ricorrenti un'ottite ogni 15 giorni che comporta una terapia medica che poi risulta inefficace perché poi c'è la ricaduta vuol dire che c'è una base qualche altra situazione e a volte si arriva anche alla perforazione della membrana timpanica la perforazione della membrana timpanica è una patologia che si risolve anche spontaneamente con una terapia medica appropriata quindi non è che una persona diventa sorda ma le condizioni in base rimangono anche l'ostruzione della tuba di ustacchio comporta diciamo un impedimento poi specie nei bambini può tornare più volte con grande preoccupazione dei genitori ecco facciamolo anche vedere l'ostruzione della tuba di ustacchio da una scarsa ventilazione della membrana timpanica quindi praticamente si arriva alla ricorrenza specifica insuffrando sia per via nasale che anche per via endotie auricolare si riesce a soffiare se c'è la rotta della membrana timpanica questo gas passa direttamente nella tuba di ustacchio e va a finire in gola quando abbiamo ritrovato la nuova canalizzazione la disostruzione la rimozione dei germi patogeni in qualche seduta a questo punto c'è una perfetta ventilazione è un restituto di integrum che nemmeno probabilmente almeno da quello che può essere la mia esperienza le cure termali diciamo tanto sannate possono fare magari le due cose possono convivere insomma sicuramente vanno bene ugualmente però almeno questo è un attenzante questa è più strong ecco quella è importante senta a 30 secondi per dirci cos'è l'emoterapia so che lei fa anche questo allora allora lì c'è un problema perché mi avevo portato una foto dove mi sono sottoposto io praticamente sarebbe l'ossigenazione del sangue quindi praticamente l'arricchimento di energia al sangue i globuli rossi non cambiano neanche come volume non cambiano nemmeno come concentrazione quindi praticamente non è doping fatto in un certo modo e a questo punto invece posso portare l'arricchimento cosa succede io prendo 200 cc di sangue li porto in una sacca a circuito chiuso sempre col corpo quindi non viene separato quindi non c'è una manipolazione del sangue viene aggiunto 200 cc di gas mescolato piano piano per evitare le molisi dei globuli rossi e reinfusa questo dà una capacità rivitalizzante al corpo dà una capacità che va a innescare dei meccanismi legati ai globuli bianchi quindi alla produzione di nuove citochine che sono dei mediatori che sono delle interconnessioni tra i globuli bianchi quindi va a rafforzare difese va a dar miglior capacità di ossigeno ai globuli rossi quindi miglior trasporto e quindi nuova vitalità al corpo quindi insomma aumenta anche le difese del corpo in questo modo è importante va ripetuto anche per alcune volte ci sono delle terapie che possono essere trattate anche le epatiti possono essere trattate in questo modo e a questo punto è una valenza molto curiosa quella che si sta dicendo nel senso che è poco conosciuta quindi avremo modo se qualcuno è interessato il dottor Rosa ovviamente è a disposizione abbiamo terminato il nostro tempo ringraziamo tutti i nostri ospiti anche chi ci ha già lasciato come il dottor Guerreschi e il dottor Saccani salutiamo la dottore Satosi il nostro dottor Paolo Cardaci il dottor Rosa e il dottor Enrico Ovaleo Pandolfo grazie per essere stati con noi anche a voi cari telespettatori ci vediamo in diretta mercoledì prossimo e c'è una replica domani mattina e una domenica mattina intorno alle 9 e mezza se siete interessati buonanotte a tutti voi una produzione Telemantova in collaborazione con Ordine dei farmacisti di Mantova Federpharma Mantova Unico logistica e distribuzione di prodotti farmaceutici la farmacia dei farmacisti unico e il maggiore distributore farmaceutico interamente italiano di proprietà dei farmacisti Centro del riposo a Mantova letti completi materassi guanciali materiali di alta qualità per il vostro benessere e a a Grazie a tutti.